Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba attenzioni, chi ha scherze memorie, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi fa sotto un treno, chi ha malattia, chi fa portapia, chi trova scontato, chi come ha trovato, na, 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 ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu, Eccole qua, ve l'avevo promesso ragazzi, Teresa e Raffaella Teresa ciao, Raffaella ciao, sono molto emozionate loro perché dice giustamente Allora specialmente Raffaella mi diceva non farmi fare figuracce eccetera Noi non lo facciamo, noi vogliamo semplicemente, stiamo promuovendo il Babylon Caffè E sicuramente quando venite al Babylon Caffè trovate queste due belle ragazze, vero? Certo Certo, certo, insomma le avete viste prima all'Opera mentre preparavano un cocktail Ma sono brave anche sulla caffetteria, vero? Certo Caffè Caffè Cappuccino Cappuccino Latte macchiato Latte macchiato è una nostra specialità del Babylon Caffè Oppure un buon succo di frutta Vabbè, facciamo solo il salutino Facciamo solo il saluto Questo possiamo giudere No, ma così saluto Sì, penso che questo si può giudere Arrivederci Arrivederci Ma come arrivederci? C'è che è un scontrino, arrivederci e grazie No, facciamo un saluto Teresa Raffaella Un saluto Che voglio dire, quando facciamo questo saluto la gente a casa, no? Dice Mamma che quasi mi viene la voglia di andare al Babylon Caffè Beh, quei saluti anche un po' accattivanti, no? No, quelli tuoi Ma che li farei a lei? Ma che li farei a lei? Tutte e tre, tutte e tre facciamo così Guarda, metti vicino a me Vieni qua, non aver paura Facciamo uno, due, tre Guarda, facciamo Ciao Vabbè, facciamo ciao così Così, ciao così Un saluto e una mancia Un saluto e una mancia Un saluto e un caffè Eh, vi aspetto per un caffè? Sì, lo faccio Tutte e tre Vi aspettiamo per un caffè Uno, due, tre Vi aspettiamo per un caffè Va bene? Allora All'unisono contemporaneamente Uno, due, tre Vi aspettiamo per un caffè Ma te sorridi Eh, tutte e tre Allora Vi aspettiamo per un caffè Uno, due, tre Eh Allora Uno, due E tutte e tre insieme dobbiamo fare Vi aspettiamo per un caffè Ok, ci sei Raffa? Sì Ok Però deve essere fatta all'unisono Cioè nel senso che deve essere fatta contemporaneamente Ok Non spazientirti Se la gente dice Viene per il caffè Eh Uno, due Mi raccomando Non Uno, due, tre Vi aspettiamo per un caffè Ok È un succo di frutta Va bene Ciao One, due, tre Grazie.